Oggi il telescopio Event Horizon è lieto di condividere con voi la prima immagine diretta del gigante gentile al centro della nostra galassia. Così da Washington viene annunciata la prima fotografia mai scattata a Sagittarius A, nome che la scienza ha dato al colossale buco nero che si trova al centro della Via Lattea. Buco nero supermassiccio è il termine scientifico, un abisso in grado di divorare ogni particella di luce e materia all'interno del suo incontenibile campo gravitazionale, il che spiega la difficoltà a ottenerne una qualunque immagine finora. Ogni tanto dobbiamo ancora darci un pizzicotto per ricordarci che questo è davvero il buco nero al centro della nostra galassia. Per riuscire nell'impresa, a cui ha contribuito anche l'Italia con gli istituti nazionali d'astrofisica e fisica nucleare, è servito appunto l'Event Horizon, insieme di otto radiotelescopi sincronizzati in tutto il mondo. Si tratta del secondo buco nero supermassiccio mai fotografato, le dimensioni in questo caso sono 4 milioni di volte superiori a quelle del nostro Sole.